Giù! Giuseppe dove sei? Qui davanti. Vai così. Giuseppe guarda il mio nuovo look. Lui sai come si chiama? Si chiama Topo Gigio. Ah c'è scritto dietro. E guarda qua pure dietro cosa c'ho. Guarda i miei pantaloni, guarda la mia maglietta, la mia collana, la mia bocca. C'è scritto. Oh no ma questo tipo ha prendito. E ha pure il topo. Ha i stessi capelli, ha gli stessi occhiali. Ma dai. Va giù. Oggi sai dove ti porto? In vacanza. Andiamo in un hotel. Ma no. Si in un hotel. Entra. Ma andiamo in un hotel. Si lo so. Ci rilassiamo un po' che questo tipo è una banana. Ah questo tipo ha la mia stessa maglietta, guarda. E pure il topo. E c'è un tipo uguale a te. Chi è il topo? Non sono io. No è pure i miei stessi occhiali. Comunque la mia bocca è troppo bella. Comunque siamo nella mappa hotel. Vero. Allora. Qui si dice che c'è un mostro. Giù prendiamo la stanza insieme che qui adesso ci dovrebbero dare la stanza. Che? E prendiamo la stessa stanza? Eh la. 300. Oh no. 402. 402. Eh giù io questo ormai. Oh cacchio. Eh non siamo nella stessa mi dispiace. Ma io sono con 202. Io 302. Giù andiamo dalle scale. Io 302. Io so che di notte qui c'è un mostro. Quindi di notte arriva. Vieni. Io 402. Io 302. Vieni alla mia camera. No non posso entrare. Non so. Perché ci abbiamo. Allora. Ah però siamo sotto. No io sono nel 3 e tu sei nell'altro piano. 301. 302. Con chi sarò? Per non poterlo. Per essere scomparso dovrei essere con qualcun altro. Per non poterlo. E' giusto? Non lo so. Che c'è? 1001. 1002. Oh. Wow. Fa schifo. Si lo so. Prova ad armire guarda. Ok. 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 Ma mi posso non. Ma perché so? Sono un abbo. Eh strani. Ma c'è un tipo di rocco. Ah. Che c'è? Ah si è il tuo compagno di camera. Io mi penserei. E poi perché se dormo c'è questo? Io so solo. E mi so. E mi so baggato tantissimo. Vero? Io so solo. Ma io volessi essere solo. Vabbè tu sotto di me dovresti essere. Eh si. Si. Io sono nel 302. Ah ma ci sono di più. Ma spera perché c'è un mio. Perché è il vetro. Ma certo. Ma quanto sono bello. Guarda. Guarda. Ma cosa succede un video? Ehm. Perché dovrebbe succedere. Giuseppe. Perché l'hai detto? E perché io sono senza abbraccia? No. Perché l'hai detto? E perché l'hai detto? E perché c'è buio? Tu hai detto che non sta succedendo niente. Perché hai detto che non sta succedendo niente? Adesso sta invece. Hai visto? Hai detto che non stava succedendo niente. E invece adesso è successo. Ed è notte. Oh no. Adesso quindi. Forse c'è. Qualcuno? Giuseppe. Giuseppe muori io. Non me ne frego niente. Io no. Non posso più uscire dalla mia camera. Vai Luca. Mi accendo la luce. Vado in bagno. Ciao. Aiuto. Voglio uscire dal bagno. Come si accende la luce? Ah ma io... Ah! Aiuto. C'è qualcuno. Io sento pazzi. C'è qualcuno. C'è il mio orologio. Che schifo. Che cos'è? Un'allarme giù. Ma chi vi dice? Io ho il cesso a forma di bicchiera. Possiamo uscire? Non lo so. Sì io sono uscito. Esci. C'è un allarme. Mi sa che ha detto di uscire? Non capisco tanto l'inglese. Giù attento. Quando cammini. Ma ma ci sono le scale rotte. Ciao Giù attento. E che cadi. Ah no non sei tu questo. Aiuta Giù. Ai. Giù 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 giù. Giù sciamo. Non si può uscire. Non si può uscire. Cacchio. Nevica. Neve. L'ascensore funziona. No non funziona. Come? Ce l'hai ancora la tua chiave. Eh sì. Dai abbiamo tutti danno. Giù ma te stai morendo. Eh lo so. Non c'è qualcosa per curarti. No. No. Ma da. Ma cosa dobbiamo fare? Non lo so. Dobbiamo questo aspettare. Non si è la scienza. Non posso uscire. Non c'è la scienza. Non c'è la scienza. No io ho paura. Oh l'ascensore. No non c'è entra. Non c'è. Ah sì entra. Ce l'hai messo questo. Quello là è fuori. Quello che fuori no. Sì quello lì era ormai morto. Ma era velocissimo. Ma cos'era? Era un mostro. Sì era un mostro. Hai visto tipo. Questo qua l'ha paura. Ah questo tipo. Ah vai pure io paura aiuto. Stram. questo tipo un bellissimo ok ok perché c'è questa canzone? io vi vedo tutti i bagazzi penso io che dire la scienza allora mentre facciamo questo io ci tengo a dire una cosa nella sala 402 è la tua? eh si comunque sto dicendo ci penso ci tengo a dire una cosa eppure di questo tipo ok ma quindi se non ce la aprite voi noi non possiamo passare allora ci tengo a dire una cosa seguitemi sul andate sulla mia su twitch e seguitemi ok? che poi appena saremo tanti tipo quanti youtube poi inizierò a fare delle live ce l'ho ma non faccio mai le live perché chi dovrebbe venire che tristezza io vermo con questo tipo uguale a me così i nostri topi si conoscono questo tipo mi ha inviato la richiesta me ne frego ciao vorrà far riconoscere i nostri topolini è anche scritto ma che è scritto è che abbiamo lo stesso topo ok chi ha bussato? oh c'è gente chi sono? volete la mia chiave? quale sono nata? una paura lui è scioccato ah tu non ho gli altri che tipo vi sono qui hanno una stanza qui io senti togli che non vedo ma non sono questi quelli si vabbè ma ce ne sono pure gli altri che c'entra c'è una che sono una che ha paura uno non li ha ne frega niente è stato uno felice e una femmina con la barba topolino topolino devi stare tranquillo vero? tranquillo topolino guarda che faccione che ha la mia topo ho paura eh mi viene da arrottare e lo farò non so lo farò forse questi qui continuano forse dobbiamo uscire ma chi li sta saltando? ma nessuno voglio uscire giù apri con la carta non posso non posso non posso voglio uscire da qui oh no noi siamo pagati dal video non abbiamo le braccia io le vedo bene vabbè giuseppe è buggato allora io dormo quel tipo continua a inviarmi la richiesta il mio topo sta dormendo ok forse dobbiamo uscire adesso esci voglio uscire da qui non si apre mai oh mio dio io non me ne vado in bagno e ai aperto aperto a sì quindi io sono rimasto chiuso in bagno giù non posso mai più uscire ehi giù mi sono buggato in bagno non mi non posso non si apre più la porta del bagno dai infatti il bagno tipo a sta stanza è stata rosa infatti non c'era il vetro non funzionava più non era previsto che uno rimaneva quella dentro è successo è perché tutto rossa perché c'è la luce rossa ma che cavoletto io sto morendo io sto morendo aiuto dio ma che ti sei curato la vita ma come io te la vedo non te la vedo la vita quindi ok ma vedo un parkour giù non voglio fare un parkour dai ma non si può andare mai ma che è sta cosa sono triste magari ora si uccide noi non possiamo fare niente perchè ci blocca ehi se cadi moriamo io ho preso fuoco hanno quindi se cadi muori pure io vado a fuoco vabbè ma se cadi una volta è la fine ma poi c'è un coso di dietro che devi fare per forza veloce che devi fare per forza veloce non puoi fare te la fai tu tu però mi devi guardare vieni qua vicino a me io sono morto vabbè ma adesso muoio pure io non ti posso fare ragazzi cosa succede c'è un tipo una tipa morta mi metto qua sopra oh mio dio sono salvati questa tipa è morta ma guarda la mia vita cavolo eh ha graffi oh mio dio quattro pazzesca è il mostro è vero il mostro non l'ho visto che avevo paura c'è un mostro no io non ci sa prima faccia andare avanti là non ti convenza al tic magari c'è il mostro c'è un ascensore basta gli ascensori mi sta venendo il trauma non vedo più la fine della scala e si è aperto l'ascensore che piano andiamo al primo piano io non ci vedo più adesso ti trovi un altro posto però continua a guardarmi a dobbiamo andare misa al telefono e chiamare dire e chiamare aiuto ma io non ci esco lì faccio uscire sto te non vedo più niente non abbiamo chiamato aiuto mi sa entra ok adesso gio aiuto però io volevo essere con te non possiamo mai più salire guarda la neve con te ma che cazzo oh ma qua ma qua dobbiamo scappare nooo idiota stavi per morire saliamo oh mio dio ma perché non si fa salire questo tipo metto sempre sto piano addio sono rimasto io sola aiuto giuseppe ciao cosa c'è? non lo so non c'è più niente non possiamo mai più andare avanti ah si c'è teletrasportato qui ma io volevo farlo con te non hai ai robots nooo se non è tu pensai si ma la storia è lunga ah si ok siamo arrivati oh no ci siamo volcati io lo sapevo che succedeva fatemi uscire sono astrofobico aiuto non so dai ti prego di me che non c'è un parkour nell'ascensore no no tipo un parkour nell'ascensore che però tipo per uscire dall'ascensore no voglio uscire dall'ascensore ecco che ti avevo detto io me lo immaginavo c'è la musica c'è la musica c'è la musica non ci vedo dove devo andare devo andare vabbè ragazzi non abbiamo finito però per questo video possiamo anche finire vero John? non mi va di rifare tutto il casino quindi vabbè ragazzi da Franciotto è topo Gigi ciao ciao